Su iniziativa del garante dei detenuti è stato presentato a Palazzo Rascaris l'undicesimo rapporto annuale sulle condizioni di detenzione in Italia e in Europa, redatto dall'Associazione Antigone ed edito dal gruppo Abele. Nato nel 1998, l'Osservatorio di Antigone è autorizzato a visitare gli istituti di pena per adulti e per minori con lo scopo di raccontare all'esterno i risultati del monitoraggio. Il rapporto di Antigone quest'anno ha fatto registrare i miglioramenti del nostro sistema per quanto riguarda il sovraffollamento che dopo la sentenza Torreggiani sicuramente ha avuto una diminuzione dei detenuti. Dopodiché esistono tutta un'altra serie di problemi che non sono stati risolti e che vanno ben al di là del discorso del sovraffollamento. In questo rapporto tra l'altro noi facciamo riferimento anche all'esperienza dell'Osservatorio europeo di Antigone e quindi riportiamo una serie di esperienze a livello internazionale, soprattutto europeo, che al nostro modo di vedere sarebbero molto utili per la risoluzione di molti problemi carcerari.